Allora salutiamo il meraviglioso pubblico di bettaste.it e salutiamo Marco Manetti. Ciao Marco. Ciao. E diamo il benvenuto a Marco allo stand della NUC per chiacchierare con lui di un piano che si chiama 17, non è uno dei film dei fratelli Manetti ma è 17 anni di carriera perché se vogliamo essere precisi dal primo corto all'interno di Degenerazione dove questi due signori hanno cominciato a farci vedere delle cose sono passati 17 anni, era lontano 1995 e Marco e Antonio cominciavano a uscire fuori giovanissimi. Allora siamo qui con Marco Manetti per chiacchierare un po' della loro carriera che è una carriera molto interessante, molto varia che io come generazione ho seguito perché siamo stati dei fan dei fratelli Manetti fin dalla prima ora ed è stata una carriera faticosa, è stata una carriera interessante, estremamente eclettica e spesso l'eclettismo in Italia non paga ed è stata una carriera di videoclip, di esperimenti web, di lungometraggi per il cinema, di serie per la televisione molto originali, insomma è stata una carriera ormai lunga, sono 17 anni, ti sei incupito da quando ho detto che sono 17 anni, ci stai pensando? È il del 95 Degenerazione, è del 95 e quindi eccoci qua, allora intanto la stagione 2011-2012 è stata una stagione per Marco e Antonio molto significativa, è stata una stagione da due film, raramente in Italia si riesce, per un regista raramente riesce a fare un film ogni anno, addirittura Marco e Antonio ne hanno fatti due quest'anno, mancavano dal cinema da un pochino e quindi insomma è stato un rientro per loro molto importante, tu come lo vedi quest'ultimo anno della vostra carriera? Beh, è un anno stressato, tanto perché abbiamo fatto un sacco di cose però alla fine, a livello personale, interno, il nostro eclettismo è un po' in realtà un approccio naturale al fatto che ci diverte fare le cose, questo significa che non è che poi noi, ma te lo dico sinceramente non è che poi noi ci accorgiamo quando facciamo una cosa se è un film, se è un telefilm, se è una cosa per il web se è un video musicale, per noi fare delle cose è bello fare delle cose, quindi magari dal punto di vista nostro lavorativo non c'è tanto l'idea di dopo tanti anni di silenzio col cinema di fare due film, non so come dire tutti insieme, no? Quello che c'è invece che per noi è stata una svolta importante che corrisponde a questo periodo è la nascita della Manetti Bros Film, nel senso che noi questi ultimi due film come gli ultimi video musicali che abbiamo fatto e adesso stiamo per girare un pilota per il web, li facciamo con la nostra produzione e questo ha cambiato molto nel nostro modo di fare le cose, nel senso che ci ha dato la possibilità di scendere ancora meno a compromessi, di produrci le cose da soli, di trovare i budget come fanno i produttori veri a pezzi un po' di qua e di là, no? E di far investire poco in modo che possiamo fare quello che ci pare, poco significa che ognuno investe poco, però magari dall'insieme c'è un budget adeguato per fare le cose non so come dire. Ma che cos'era per esempio, adesso mi hai fatto venire molta curiosità, che cos'era per esempio l'arrivo di Wang nella vostra testa quando avete cominciato a parlare di questa storia? Come siete arrivati a concepirlo come film? Questo mi interessa molto, proprio perché appunto c'è questa idea che è vera, cioè che vi interessa fare delle cose e poi là, da questo punto di vista Marco e Antonio sono degli artisti quasi postmoderni dal mio punto di vista, cioè l'idea di vedere la distribuzione in un modo molto aperto, cioè la distribuzione per distribuzione intendo proprio lo sbocco della cosa che poi voi volete fare. Raccontami dell'arrivo di Wang perché l'ho trovato un film molto originale, molto bello, poi dopo parleremo, cercherò in tutti i modi di rubare delle informazioni molto interessanti sul futuro dell'arrivo di Wang da un'altra parte del mondo, però per esempio dimmi l'arrivo di Wang che cos'era nella vostra testa all'inizio? L'arrivo di Wang in realtà nella nostra testa era semplicemente che noi in concomitanza con l'idea di aprire la nostra produzione abbiamo preso un ufficio, cosa che noi non abbiamo mai avuto prima e nel cercare l'ufficio c'erano due nostri amici che sono due persone che è un'altra caratteristica tipica nostra che si sono conosciuti grazie a noi e sono Simone Silvestri che è quello che per noi ha fatto un po' gli effetti speciali di tutte le ultime cose nostre, coliandro, degli effetti speciali, non grandi effetti speciali di piccoli effetti che avevamo bisogno delle cose nostre e Vito Picchinenna che era addirittura un nostro compagno di scuola che negli anni ci siamo contenti a frequentare, che ci ha fatto l'assistente della regia sul Zora che poi è diventato un montatore nel frattempo. Vito e Simone insieme hanno fatto una società che si chiama Palantir Digita e affittavano due stanze nel loro ufficio, nasce da là questa cosa. Noi cercando un ufficio abbiamo deciso di prendere in affitto queste stanze nell'ufficio della Palantir. La Palantir in quel momento era una società piccola appena nata che faceva dei lavori più che altro di grafica e montaggio ma con l'idea di fare effetti speciali. E allora loro ci hanno chiesto ma perché non scrivete una cosa magari corta che la produciamo noi, che è una storia vostra, fatela reggia voi ma a noi serve per fare uno showcase dei nostri effetti speciali, magari dove c'è una creatura. L'altro si era annuiti a Maurizio Memoli che è un ragazzo italiano che lavora in realtà all'estero e ha fatto tra le tante cose Avatar, ha messo le mani su King Kong, su Ten Ten, insomma ha fatto delle cose importanti. Adesso ha fatto un film con Giorgio Lucas a Singapore e ora è andato a lavorare per la Ubisoft a Montreal. Lui frequentava, loro i tre insieme, i due soci più Maurizio, noi vediamo la nostra opera gratis se in qualche modo produrremmo questa cosa. Noi ci siamo messi a scrivere, abbiamo scritto un film perché siamo un po' lunghi, siamo prolissi e allora mi ha detto ma invece di fare una cosa prodotta da voi facciamo un film prodotto da noi. In realtà la cosa nasce un po' così. Poi chiaramente tutte le cose hanno varie genesi, poi c'è l'idea, nel senso che poi c'è una storia che pensando Antonio è venuto in mente questa storia, la storia ci ha preso subito, quindi poi in realtà un film nasce dalla sua storia, dalla sua plot. E parlando dell'arrivo di Wang parliamo di questo spunto che trovo interessantissimo, partire da un effetto speciale, partire dalla voglia di lavorare con degli effettisti speciali che poi fanno un lavoro egregio e partire da un personaggio che è un effetto speciale e che è un alieno, perché l'arrivo di Wang racconta la storia di un alieno che arriva in Italia, arriva nel pianeta Terra, arriva in Europa, arriva in Italia, arriva a Roma, la sua razza ha scoperto che nel mondo il cinese è la lingua più parlata e quindi loro dicono beh, devo parlare cinese e arriva parlando cinese e in realtà a Roma il cinese lo parlano in pochissimi e già questo pressappochismo degli alieni lo trovo molto divertente perché li fa sembrare molto simili a noi, li fa sembrare molto umani, avvicina molto l'alieno all'essere umano e l'ho trovato estremamente originale, diverso da moltissimi film di fantascienza ai quali siamo abituati. Ebbene, insomma, il signor Wang è un effetto speciale per tutto il film e Palantir ha fatto un lavoro egregio, ma il lavoro egregio per me deriva proprio dalla mi permetto di dire, provoco Marco, vediamo se mi... è un effetto speciale scritto, poi ovviamente molto realizzato, però c'è una scrittura ma sopraffina in questo effetto speciale perché? Perché le espressioni sono estremamente curate nella loro sobrietà, non viene richiesta all'effetto speciale di stupire, ma viene trattato come se fosse Agno Fantastichini, come se fosse Francesca, la meravigliosa cointerprete del film insieme a Fantastichini. Insomma, Manetti, come arriviamo a questa concezione dell'effetto speciale così poco effetto speciale in sé? Beh, guarda molto semplicemente, in realtà non pensando che è un effetto speciale, scrivendolo come se fosse un personaggio, dirigendolo come se fosse un personaggio, combattendo anche a volte con mille situazioni che tendono a trasformarsi in un effetto speciale, sia nell'approccio che magari a volte si può avere sul 7 con questo personaggio che è effetto speciale, sia forse gli effettisti speciali che a volte hanno voglia di fare i grandi effetti speciali come si fanno nei grandi finti di fantascienza, invece l'idea nostra è che la vera rivoluzione tecnologica del momento è che si possono fare dei personaggi, si può dare a questi personaggi delle espressioni anche nella loro parchezza, che prima non erano possibili e questa è la vera rivoluzione, stupire, ce l'ha pure prima, non so cosa vuol dire, c'è l'effetto speciale super che stupisce, c'è sempre stato, ora la tecnologia ha fatto sì che l'effetto speciale può entrare nel film senza che te ne accorgi e questa è la vera forza e quindi è semplicemente questo, raccontare una storia senza voglia di stupire ma come la cosa che dici tu sugli alieni, io non userei il termine pressappochismo, però il concetto è lo stesso, io userei il termine sbaglio, sono imperfetti, gli alieni sono spesso raccontati nella storia del cinema o della letteratura, a volte buoni, a volte cattivi ma sempre perfetti, no? O perfettamente moderni o perfettamente antichi o perfettamente cattivi perché poi quello che non ci piace, fino alla fine però, perché poi quello che mi dà fastidio, prendi Battleship anche, e invece Antonio e Marco vanno veramente controcorrente lì, una cosa che io detesto dei film di fantascienza è che per tre quarti di film, come i mostri, il vampiro deve essere indistruttibile e quindi è estremamente preciso anche nella sua invasione, estremamente preciso dal punto di vista strategico e tattico, tanto che l'essere umano per tre quarti di film deve essere assolutamente sopraffatto, in Battleship c'è esattamente questa cosa, e poi alla fine Tim Burton lo risolveva in chiave satirica in Mars Attacks, cioè prendeva proprio in giro il fatto che alla fine si trovasse un escamotage che faceva ridere, e cioè la musica, un certo tipo di musica, gli fa scoppiare la testa, dopo che abbiamo visto che loro erano perfetti, invece voi avete fatto una cosa estremamente originale, perché con il fatto già di questo piccolo errore che io chiamo persappochista, ma perché... No, va bene... Ma sì, perché comunque Wang poi arriva a Roma... No, lo sai cosa è che il persappochismo in qualche modo può essere... solo questa è la differenza, no? Può essere una condizione non eterna, invece l'imperfezione, l'errore è di tutti, quindi anche degli alieni... Anche degli alieni... Che... che... allora... Questo è... questo è... è nuovo, questo è nuovissimo, questo noi non l'abbiamo visto, prendiamo Battleship di Peter Berg, gli alieni sono fortissimi, cioè per tre quarti di film, tu vedi tutti quei cliché, tutti quei luoghi comuni ai quali siamo abituati, cioè l'arrivo improvviso, la sorpresa e l'essere umano che viene sgominato, massacrato, e invece con Wang è esattamente l'opposto. È vero, ho capito cosa vuoi dire, nel senso che in qualche modo diventa più invincibile dopo, in qualche forma, è vero anche questo, questo però forse... magari c'è, però è talmente involontario su cui non ti so dare una risposta... però al di là del fatto... io non ho visto Battleship, però capisco il cliché a cui tu ti stai riferendo, no? Alla fine il fatto di essere imbattibile fino a un certo punto e poi capisci il modo in cui batterlo è più un cliché legato al cinema d'azione che al cinema di fantascienza. È la perfezione... invece quella perfezione che io un po' più critico alla fantascienza... critico, non mi viene a me di fare la stessa cosa, poi amo tantissimi film... è la perfezione anche emotiva, cioè sono una cosa sola, sono cattivi, buoni, perfetti, scientificamente avanzati. Invece può darsi, no, che per esempio un altro mondo, che c'è avuto un altro sviluppo, può darsi per esempio che su delle cose è più avanti di noi scientificamente e su delle altre meno, perché magari c'è avuto un altro sviluppo, un'altra storia, no? Allora magari hanno un'arma che è più forte della nostra, davanti a un telefono si stupiscono, no? Non so se... secondo me è proprio quello che manca, è la... o quello che a noi abbiamo sentito di metterci, è la varietà della realtà, e invece diventano solo un pupazzo, no? Invece proprio lo sospetto speciale c'ha la varietà della realtà, quindi è un po' tenere, è un po' stronzo, è un po' bravo, è un po' incapace, no? È un po' preciso, è un po' impreciso... È resistente ma c'ha sete... È resistente ma c'ha sete... e insomma Wang è il Kevin Spacey dei suoi sospetti, un pochino in questo film, è un personaggio che sta in luce poi, cioè è un effetto speciale. Per l'80% quasi del film in luce, cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che lo vediamo, lo vediamo, non nell'oscurità, quando ci sono personaggi digitali o comunque non organici presenti in un film, spesso i registi utilizzano degli escamotage per tutelare il lavoro anche degli effettisti, qui questi pazzi mettono Wang e lì il critico cinematografico si fa un pippone meraviglioso perché la posizione di Wang nella storia è anche una posizione del personaggio Wang all'interno della produzione del film, cioè è in una situazione di grande difficoltà perché è in luce, cioè si vede moltissimo e quindi Palantir e Marco e Antonio dovevano essere molto bravi nel non farci mai sentire l'inadeguatezza visiva, in un certo senso, dell'effetto speciale. Chapeau perché dopo 20 minuti, ma anche di meno, da quando hai visto il povero Wang lì interrogato, beh insomma ci stai, lo vedi. No è vero, tra l'altro c'è una cosa che noi abbiamo detto in tanti dibattiti ai festi, quindi poi non è uscito fuori, che un po' sta in linea con questo senso, diciamo che il nostro è il primo alien porn, cioè il nostro alieno è mostrato esplicitamente come in un film porno, come un rapporto sessuale in un film porno, nel senso che non lo facciamo misterioso, non se nasconde, non sta nella penombra, all'inizio sta il buio, ma quello è il buio totale, che è un'altra cosa, non c'è la voglia di renderlo un po' più misterioso e quindi più affascinato, è là e lui sta lì, ed è illuminato come tutti gli altri. Esatto, sì è vero, è un alien porn, è bellissimo, è bellissima come definizione, ed è, però ripeto, la maestria di questo film, io penso che sia il film più bello di Marco Antonio per il cinema, e tra le cose più belle che hanno fatto in generale, adesso lo dico subito, è che esattamente questa vulnerabilità del personaggio è perfetta, è coerente, è la vulnerabilità di un effetto speciale all'interno della produzione ed è la vulnerabilità di un personaggio all'interno di una storia in cui questo povero Cristo di Wang, non vogliamo svelare niente per chi non l'ha visto, ebbè è messo sotto torchio dall'inizio del film, alla fine ed è messo sotto pressione, un po' come il Kevin Spacey, dei suoi sospetti, e quindi noi ci vediamo, ce lo vediamo lui e proviamo per lui una empatia che poi potrebbe essere appunto pericolosa, quindi, e poi soprattutto torniamo di nuovo a parlare di questa tecnica cinematografica che diventa espressione, e cioè, Wang può stare anche così, può stare anche così, no? Cioè non c'è bisogno di... Sì, sì, assolutamente, sta come una persona. Di far strabuzzare gli occhi a un effetto digitale, e questo l'ho trovato geniale. È stato anche in qualche modo faticoso. Concettualmente? Perché è la cosa strana, no? Che quando tu, nel lavorare, no? Perché quando tu fai un effetto speciale, no? In realtà io mi aspetto che la direzione in cui si lavora è farlo sembrare il più vero possibile, no? Invece poi non è così, perché proprio tu c'hai una squadra che viene da molte realtà diverse, no? E allora, per esempio, il primo approccio dell'animatore è di farlo muovere come un cartone animato, no? Ma perché? Perché deve strabuzzare gli occhi? E sotto c'era... Noi abbiamo avuto la fortuna che al posto di Wang, seduto dal tavolo, c'era un signore cinese che non era proprio un attore, era uno che faceva delle letture per l'università, quindi sapeva recitare con la voce, ma non era un attore con la faccia, no? E quindi era un signore cinese molto enigmatico, che si muoveva molto poco, no? E l'unico modo che abbiamo trovato per far capire cosa volevamo agli animatori era... Lo vedete, il cinese? E quindi era un uomo poco espressivo ed è venuto fuori un alieno poco espressivo, ma in realtà molto espressivo, perché in realtà l'espressione fa passare le sue piccole sensazioni, così come le fa passare un attore di carne e rossa. Assolutamente, assolutamente, e questo è uno dei tanti segreti di un film, peraltro che appunto è un film, è un cinema da camera, è un cinema da fantascienza da camera, perché abbiamo una sorta di unità di luogo e azione, abbiamo una sala interrogatorio e poi è una storia che si dipana attraverso anche degli sguardi nel passato, ed è una storia... ed è un giallo. Insomma, è un film di grandissima originalità che Marco Antonio hanno tirato fuori con degli attori meravigliosi e con un effetto speciale che si comporta come un attore. Non è un caso che l'arrivo di Wang sia andato a Venezia. Mi racconti questo rapporto con la mostra del cinema di Venezia? Mi racconti cos'è successo a Venezia? Oddio, in che senso? Come arriva l'invito a Venezia? Come lo prendete voi? Sì, guarda noi semplicemente tra i produttori e i finanziatori del film c'era Luciano Martino, e Luciano Martino ha detto, ma andiamolo a Venezia per farlo, ma no, ma figura, abbiamo un film di fantascienza a Venezia, ma quando? Ma che lo mandi a fare? E invece l'ha mandato a Marco Muller, con cui si conoscono, sono arrivato direttamente a lui e Marco dopo pochissimi giorni ci ha mandato una mail, prima ancora di metterci ufficialmente nel programma, c'è proprio scritto, perché noi abbiamo detto a Luciano, però a Luciano spiegaglielo quando glielo mandi, no? Dici, guarda questo è un piccolo film di genere, no? E la prima risposta di Muller fu, ah la faccio il film di genere, questo secondo me è un film molto importante. Ci rispose, noi già insomma eravamo abbastanza ringalluzziti, poi non ci chiamava più, quindi pensavamo che poi non saremmo più stati nel programma, invece siamo stati credo l'ultimo film preso nella sezione contro campo, e alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati a Venezia, quindi grande emozione, paura, nel senso che capivamo che, non lo so, non è che io vedo il mondo come un conflitto, a volte lo vedono gli altri come un conflitto, no? Però in qualche modo andavamo nella tana del nemico, non so come dire, andavamo a portare il nostro cinema dove in qualche modo il tipo di cinema che facciamo noi è rifiutato, in un certo senso, no? E tra l'altro stavo raccontando adesso al telefono ad Alex Infascelli, al mio amico Alex Infascelli, poco prima quando mi hai visto che arrivavo stavo parlando al telefono, con lui gli raccontavo a lui questa cosa, che è un po' il segno di questa cosa, invece il film poi, la proiezione ha avuto un successo inaspettato, enorme, e finito il film tutta la sala si è alzata in piedi, girati verso di noi e ci sono stati questi sette minuti continui di applausi, che noi non abbiamo avuto da nessuna parte, e quindi nella tana del nemico sette minuti di applausi, no? E mi ricordo, certo, mi gira e vedo mia moglie un po' in lacrime, che è un'attrice pure di Wang. Bravissima, peraltro. La vado ad abbracciare. Che mena. Che mena. Che è un personaggio irascibile, simpaticissimo del film. E lei mi dice, ci guardano come se gli alieni fossimo noi. E io penso che lei, lei non è italiana, quindi non capisce bene questa differenza in Italia molto forte tra il cinema di genere e il cinema d'autore, no? Però ha capito questa cosa, no? Che in questa sala, dove il cinema italiano che arriva, è il cinema italiano d'autore, questi sette minuti di applausi, erano sette minuti di applausi, ma erano sette minuti di applausi a degli alieni. E secondo me è vero. Ma voi vi sentite ancora degli alieni? Vi sentite ancora degli appassionati di baseball in un paese che idolatra il calcio? Che è una battuta, che forse è di Federico? Di Federico Zampaglione, sì. Che Marco ha sposato e trovo esilarante. Noi siamo come appassionati di baseball in un mondo, in un paese che vede solo il calcio. Però, Marco, visto che noi abbiamo fatto un percorso anagrafico molto simile, tu pensi che noi siamo anche la generazione che ha rotto così tanto le scatole dal punto di vista critico, attraverso Amarcord, attraverso Nocturno, due riviste molto importanti, Nocturno è ancora molto forte, Amarcord si è un po' persa negli anni. Siamo quella generazione che ha rotto così tanto le scatole sul recupero del cinema di genere italiano e voi eravate un po' i nostri rappresentanti lì. E questo è un percorso che è cominciato nella seconda metà degli anni 90, da un punto di vista critico. Amarcord e Nocturno hanno cominciato, ed è la nostra generazione che ha fatto questo, da un punto di vista critico, con Müller poi, che ha ospitato a Venezia una indimenticabile edizione con Tarantino che sdoganava definitivamente quel cinema che piaceva tanto a noi e che, per esempio, Piotta in un videoclip meraviglioso di Marco Antonio idolatrava, insomma, che faceva suo. Mi riferisco al videoclip di Supercafone, dove Piotta proprio faceva una direzione di intenti, sembrava quasi un manifesto d'avanguardia storica. Dopo anche questa bellissima esperienza con Wang, tu pensi, e poi adesso stiamo arrivando a Paura 3D, tu pensi che siate un po' meno alieni, te Antonio, dentro questo strano paese così conflittuale? Sono d'accordo con te come l'Italia, dal punto di vista cinematografico, cinema alto, cinema basso, cinema di serie A, cinema di serie B, cinema d'autore, cinema di genere. Sei in crisi? Sì, no, io penso che noi siamo alieni al 100%, senza nessun tipo di sfumatura che ha cambiato questa condizione. No, la mia intitubanza a risponderti è che ultimamente molti amici intorno a me, da cui Federico, che è un amico, mi dicono, ah, basta, piangono, sta sempre a piangere voi, no? e dicono non comunicate bene, però io in realtà, non so, per chi mi conosce bene, io non è che piango, racconto una realtà e non me ne preoccupo più di tanto. Però la verità è quella, la verità è che noi siamo totalmente degli alieni nel cinema italiano, alieni sia per chi fa il cosiddetto cinema di serie B e sia per quelli che fanno il cinema di serie A. E credo che proprio l'alienazione si nasconda proprio dietro questa parola genere. Ti spiego, cerco di spiegarti cosa voglio dire. Ultimamente abbiamo a che fare con degli americani per lavoro, per tanti motivi, no? No, ci arriviamo. E quando, agli americani come Tarantino, per esempio della Lassegna Veneziana, quando gli americani usano questo termine, cinema di genere, in realtà non si riferiscono per niente al cinema che facciamo noi. Al cinema che fa Tarantino sì, al cinema che è Tarantino maggia sì, ma non al cinema che facciamo noi. In realtà il cinema che facciamo noi, nell'accezione americana, non è cinema di genere, è cinema e basta. Perché se tu racconti una storia, e la racconti con lo stomaco, con la testa e col cuore, no? E in questa storia c'è un alieno, in Italia diventa cinema di genere. Ma nessuno considera Avatar un film di genere. Nessuno considera Alien un film di genere. Considerano un film di genere... Cosa ti posso dire? Double Impact con Van Damme? Forse Battleship? Ma guarda, già Battleship, questo è il confine che non lo considero un film di genere. Lo considero un film d'azione, che è un'altra cosa, no? E lì sta il punto. Cioè noi, in realtà, questo legame col cinema di genere, e quindi col citazionismo, con un certo mondo, non ci sentiamo così vicini a questa cosa, però ci siamo trovati costretti a sentirci fratelli di questo mondo, perché è l'unico mondo che ci accoglie. Non so come dire, però poi... Ho capito. In realtà, a me, sinceramente, ma lo dico col cuore, non lo dico né rifiutando, né anche cercando di prendere delle distanze, però in realtà noi, con i film di genere italiani, con Marizio Merli, ci entriamo poco, non li ho mai visti, non ho mai visto uno. Invece passiamo per i cultori di questa cosa, noi, no? E questa cosa, in parte, è dovuta alla situazione italiana un po', noi sentiamo di pagarla, perché poi... Ha creato anche begli equivoci, forse, negli anni? Tanti, sì, tanti. E quindi un po' ci soffro, e dico la verità, un po' mi sento prigioniero di questa cosa. Però non mi sento prigioniero, perché sennò poi faccio come quelli, io stiamo parlando un po' apertamente, no? Tanti colleghi, amici, che nascono come noi, poi un po' si arrendono a un certo punto, no? E si arrendono per campare al cinema italiano, in qualche modo, no? Alle uniche ricette che il cinema italiano propone, no? Noi non ci arrendiamo, quindi siamo fieri di quello che siamo, non voglio dire, ah, io non faccio cinema del genere, no, io faccio quel cinema che voi chiamate cinema del genere, solo che in realtà non è cinema del genere, però quello faccio. Non faccio nulla di simile a voi, non so come dire che mi chiudete in quest'ottica del genere. Sbagliate a chiudermi nell'ottica del genere, secondo me. Perché è un cinema fatto colore, col cuore, con la passione, con l'amore, con... Ecco, ma domanda, senza che tu mi faccia nomi, ma dopo questo bellissimo passaggio veneziano, dove sette minuti di applausi, io mi ricordo, uscirono delle cose molto belle, peraltro il film è piaciuto molto. Cosa stanno combinando gli americani con l'arrivo di Wang? Tu non mi dire niente, però io voglio sapere se... Che cosa sta succedendo, come loro... Perché parliamo di cinema qui, questo secondo me è interessante dal punto di vista culturale, soprattutto per i lettori di BetTaste, che conoscono molto bene il cinema americano, BetTaste è uno dei siti che lo racconta meglio. Ecco, allora io sono molto interessato culturalmente a capire come una produzione che vuole approcciare due registi italiani, che si chiamano Marco e Antonio Manetti, che hanno fatto un film, che si chiama L'arrivo di Wang, vorrei capire se c'è un minimo comune denominatore di questo tipo di proposte, di variazioni che vi stanno facendo su L'arrivo di Wang, Made in USA. C'è un minimo comune denominatore? Marco e Antonio sono lettori di una rivista molto amata, anche da lettori di BetTaste, che si chiama Empire, che è una rivista inglese, ma che comunque è una rivista, diciamo, del cinema molto radicale all'interno del cinema anglosassone. Ebbè, insomma, per me, voglio sapere, senza che tu scenda nei dettagli, poi se vuoi scendere nei dettagli, benissimo, perché siamo ghiotti, ghiottissimi di informazioni, siamo affamati di informazioni a riguardo, ma in questa traduzione, in senso letterale, di una cosa che sta per essere tradotta, dall'Italia, forse, agli Stati Uniti d'America, cosa sta succedendo a Wang? Allora, no, io non è che non ne voglio parlare, è che è un lavoro ipotetico in questo momento, quindi c'è un po' di scaramanzia, nel senso che abbiamo degli avvicinamenti da produttori e studios americani, anche importanti, uno in particolare, anche altri, ma uno in particolare, per fare un remake americano di Wang. Intanto la premessa, per me è importante, è come ci poniamo noi rispetto a questa cosa, perché poi ti posso dire mille cose, però è importante capire l'ottica da cui non le diciamo. Noi sentiamo di non entrarci nulla con questo film e di non avere proprio la necessità di entrarci qualcosa, quindi a noi è scaramanzia, ma a noi questa cosa ci interessa per due motivi fondamentalmente, uno che immagino che se poi lo fanno ci riempiano i soldi, immagino, però magari non ci riempiono, però qualcuno ce ne daranno. Gli americani. Esatto. Due, che credo che in qualche modo, se gli americani fanno un blockbuster tratto, ispirato al nostro film, in qualche modo daranno una visibilità anche al nostro film, come è spesso successo in America, da Ringu a Menabarra, insomma è successo spesso che dei remake hanno dato importanza ai film fatti in precedenza. Il nostro interesse professionale e artistico in questa cosa si finisce qua. Poi, per un rapporto che abbiamo instaurato con la produzione principale che sta lavorando a questa cosa, a noi ci arrivano anche quello che gli americani stanno scrivendo e come vogliono cambiare questo film, in qualche modo. E sì, il minimo comune denominatore di tutte le storie che ci arrivano è la follia, secondo me. Nel senso che la mia idea personale, che io gli ho detto, forse facendo male di dirgli, ma non ho voce in chito, me ne frega niente, io gli ho solo detto, siccome poi, sai, l'America funziona in un certo modo, c'è una produzione che paga dagli sceneggiatori, che scrivono delle cose, che poi portano allo studio. Lo studio ha detto, sì, questa storia ci interessa, però ci interessa se è sviluppato in una certa direzione. Che io capisco la frase, quindi il minimo comune denominatore nasce dalla frase dello studio, che dice però che deve essere un film di Hollywood, questo è un film da camera, dobbiamo farlo diventare un film di Hollywood, quindi, per esempio, la parte di battaglia deve essere un po' tirata su. Questo è il lancio, no? Poi, come loro sviluppano questa cosa, secondo me, abbandonano la storia del film, e quindi, secondo me, abbandonano il motivo per cui questo film interessa, a loro stessi. Non so come dirti. Cioè, a loro gli piace perché loro usano la storia di High Concept, loro usano la storia di High Concept, no? Allora, High Concept, se tu rimani là, se poi questa storia prende 750 mila diramazioni, escono, l'alieno in realtà non parlava cinese ma faceva finta, per esempio questo in tutte, no? In tutte le storie, c'è che a un certo punto lui si rivela che faceva finta di parlare solo cinese. E allora, allora, lo stesso personaggio gli chiede a lei, ma perché? E lui dà in queste situazioni delle motivazioni assurde sul perché. Io ne ricordo una, a questo punto la sto raccontando sta cosa, no? Me ne ricordo una, lei gli fa, perché hai fatto finta di parlare cinese? E lui gli fa, perché io avevo paura che se questi mi interrogavano, mi torturavano, siccome se parlo cinese avevano bisogno di un interprete, io creavo un testimone, quindi non mi avrebbero torturato perché c'era un testimone. Non so, ma allora che ti frega, se per te la hai concept, è la viena che parla cinese, e poi a metà film, e questo non parla cinese, e il perché fa finta è pure così, ma che te frega del mio film, scrivi un film da solo. Però, ti voglio dire, questa è un'idea mia personale, poi non è che mi interroga, non è che non voglio che loro facciano questo. Io gliel'ho detto solo per il fatto che ho paura che poi se loro prendono questa storia e la portano allo studio, lo studio non gli piace questa storia, no? Ho capito. E invece magari mi sbaglio, perché invece ho visto che lo studio è andato avanti con alcune storie. Però vedi, è proprio quello di cui parlavamo prima, in un certo senso, la loro anche incapacità di cogliere il piccolo, l'umanità, e diciamo, il piccolo errore che commette la razza di Wang. Guarda, sono strani. Cioè l'allea non deve commettere errori. Sì, sì, ma c'è questa cosa, anche se poi c'è in particolare un trattamento che ci è arrivato che nella prima parte io mi sentivo emozionato perché questo quasi capiva che gli era preso molto il film e ripeteva, lui scrivendo questa cosa, ripeteva, anche parlando dei servizi segreti, i servizi segreti sono come quelli della realtà, non sono perfetti, gli uffici non sono superi-tech ma sono realistici, l'alieno non è un superalieno, è vero, e poi a un certo punto ha sbaccato pure lui. Chissà, forse si è, guarda, io penso che sarà molto interessante seguire la traduzione, sempre in termine letterale intendo il termine traduzione, la traduzione di Wang sarà molto interessante dal punto di vista culturale, io penso che scopriremo. Se la faranno, non lo so se la faranno, io per questo non ne parlo perché non so se la faranno. Beh, ma è molto interessante e quando parli della battaglia, cioè si entrerà nel vivo della battaglia nel senso che si entrerà proprio che la battaglia nell'arrivo di Wang è bellissima perché tu la vedi proprio come un qualcosa di enorme che va benissimo in contrasto con la camera che noi abbiamo visto e quindi è bellissima. Ma poi è vista dalla finestra, Esatto, è vista proprio da lontano. Quando si dice di entrare nel vivo è perché proprio cioè loro concepiscono che noi entreremo lì con dei personaggi che combatteranno, diciamo, e noi seguiremo le loro gesta? Guarda, è diverso. Ti posso dire veramente ma sto dicendo troppo ma in realtà ho già detto quello che non volevo dire che io non volevo neanche parlarne. Una volta che ne parlo, ne parlo. Non c'è neanche la battaglia. Cioè, ho visto che un altro comune denominatore in nessuno di queste... stranamente, stranamente, in nessuno di queste idee c'è proprio l'invasione della terra che c'è del nostro. No, non c'è. Ci sono delle motivazioni molto più complesse, contorte e a me personalmente a volte incomprensibili. Che poi questo è buffo perché dicono a noi europei che siamo contorti, gli americani, e poi loro... Un'idea così perché il film di Marco Antonio è di una semplicità. è proprio perfetto e lo devono contorcere loro. Ma guarda, ti racconto, mi viene in mente, adesso ti racconto un'altra cosa, un altro segreto, in qualche modo. Noi, appunto, da Wang, poi tu lo sai bene, già da Piano 17 era successo, noi quando facciamo dei film interessiamo molto oltreoceano perché comunque abbiamo forse una sensibilità forse più vicina a certe cose che fanno loro perché poi gli ultimi americani a me non è che impazziscono. Da Wang abbiamo conosciuto un produttore con cui stiamo cercando di mettere su un film insieme e il problema è che noi abbiamo scritto una storia però noi non sappiamo scrivere una sceneggiatura in inglese, in americano, direi addirittura. E quindi stanno venendo da Los Angeles due sceneggiatori americani per scrivere questa storia insieme a noi. Quest'estate? Quest'estate. La scriviamo anche noi però in realtà la scrivono loro perché noi non possiamo scrivere una sillaba in inglese. e la cosa che ho noto è questa in effetti che gli americani tendono a contorcere pure questi due sceneggiatori che sono molto bravi stiamo lavorando con loro perché ci hanno fatto leggere le loro cose e mi piace moltissimo lo che fanno. Tendono ogni volta la nostra tendenza allineare perché noi c'è una tendenza che abbiamo naturale loro tentano a contorcere tutto si capisce più niente. E io però gli ho fatto un po' l'ho fatto un flippicone l'altra volta sono andato a New York perché Wang è stato mostrato una rassegna a New York. Ma in New York ho incontrato questo produttore molto molto buona molto buona ma anche all'estero fa sfaceri abbiamo incontrato questo produttore personalmente non gli sceneggiatori che incontreremo presto non stavano a New York cioè nessuno era a New York il produttore è venuto apposta loro verranno a Roma per incontrarci noi abbiamo già parlato via Skype ci conosciamo in faccia gli ho detto ma perché che fine avete fatto voi americani e io gli ho citato una serie di film adesso mi vengono in mente di fantascienza però non è Alien Terminator sono film bellissimi capolavori del cinema che racconti la storia in quattro righe e in qualsiasi momento tu prendi quel film ed è quello sta a parlare non è che improvvisamente parla di un'altra cosa e l'hanno persa sta cosa loro però è loro è più loro di nostra secondo me storicamente negli ultimi anni hanno un'abitudine all'asseggiatura contorta e noto che in tanti i blockbuster io poi amo i blockbuster americani e lì vado a vedere al cinema e a metà le trasformi non capisco più niente me perdo e magari trasformi lo dico di un film anche meno riuscito però alla fine pure Dark Knight che è un capolavoro capolavoro però un po' me perdo un po' c'è una parte che a certo punto dico ma quello perché sta là e non mi ricordo perché sta là ma che vuole questo non me lo ricordo e non lo so perché si sono un po' persi in questa cosa molto interessante questo argomento cominciamo ad arrivare verso Paura 3D mi dici quando girate Paura 3D quando concepite perché io devo capire un attimo cronologicamente in questo ultimo anno e mezzo suppongo molto frenetico mi dici quando fate Wang e quando fate Paura 3D Paura 3D è semplicemente è un film poi sai come tutti noi siamo fatti così come artisti ma anche come uomini come ti dicevo di Wang la vita c'ha mille sfaccettatori di video ti racconto una cosa però poi magari esiste anche altri mille modi di vederla sta verità però è una verità è quella che ti dico abbiamo raccontato spesso Paura 3D è un film che abbiamo fatto perché abbiamo capito che una volta finito di girare di montare Wang dobbiamo star fermi un anno e mezzo ad aspettare gli effetti speciali che fossero pronti che facciamo stanno in mezzo ed è vero sembra una frase cinefila poi io non mi sento un cinefile mi sento un amante del cinema che è diverso anche se etimologicamente finefile è questo però poi per cinefile si intende uno molto attento molto preciso conosce la storia io non sono fatto così però da amante del cinema certo mi sono ricordato del grande Bob Zemeckis che quando ha girato Cast Away ha girato prima non so quale ha girato prima Tom Hanks ma grasso credo prima ha girato Tom Hanks e poi ha dovuto stare fermo un anno per aspettare che Tom Hanks dimagrisse e Zemeckis ha detto che faccio durante quest'anno gli ha fatto le verità nascoste che è un film immensamente più bello di Cast Away un thrillerone un thrillerone io amo tutto quello che fa Zemeckis quindi amo pure Cast Away però secondo me la verità nascosta è più bella molto hitchcockiano ma lui è un patito di hitchcock che forse fare un film un po' impassa un po' capito impassa lo faccio per occupare questo tempo magari ti viene anche meglio e quindi questo è il motivo per cui ci siamo buttati a fare questo film senza aver finito l'altro quindi è finito che li abbiamo finiti insieme ho capito quindi vi protevano le mani beh sarebbe bello fare una casistica anche Terry Gilliam fece così per ragioni produttive lui litigò così tanto con i fratelli Weinstein all'epoca dei fratelli Grimm che disse proprio time out ai fratelli Weinstein time out ragazzi ci stiamo massacrando prendiamoci una pausa e andò a girare Tideland in Canada con Vincenzo Natali regista di Cube che è un regista che mi ricorda l'esuberanza e l'eclettismo e la difficoltà di Marco e Antonio sarebbe bello un incontro tra voi e Vincenzo Natali secondo me che sembra italiano ma è canadese e andò a fare l'aiuto regista di Gilliam e Gilliam fece Tideland in tipo 20 giorni di ripresa lui che è un regista molto anche di difficoltà di faticoso perché aveva il bisogno ok adesso ho capito e beh e ci sta pure perché Paura 3D è il titolo i titoli sono cambiati però l'ultimo titolo è molto molto adatto secondo me a quello che avete fatto è un film lo sai che io sono un po' rompicoglioni sull'horror e thriller io lo definirei per me è un thriller Paura 3D perché l'horror e io lo sai che sono legato alla definizione io per me è un po' naturale però secondo me eh c'è deve essere un po' del metafisico nell'horror e quindi il qualcosa che sfida le leggi della fisica il mostro diciamo quando ci sono rapporti di causa effetto e le leggi della fisica sono abbastanza rispettate in un film per me è un thriller poi se l'effettistica richiama un certo tipo di cinema di genere e qua ci stiamo già perdendo stiamo diventando critici ma sai questo discorso però è interessante entrare in questo discorso non è che mi interessa l'etichetta del mio film perché è uguale in realtà bisogna capire una cosa cos'è un horror però l'etimologia della parola in realtà dice altro perché non è che l'etimologia della parola richiama il sovrannaturale richiama un film che ha come scopo finale quello di spaventarti e secondo me quando lo scopo finale è quello di spaventarti entri nel campo dell'horror e in qualche modo anche molti thriller entrano nel campo dell'horror forse l'horror è anche un po' un ombrello che comprende vari generi cioè Psyco per te non è un horror? no no ma è un dibattito eterno Psyco per me non è un horror? aspetta tu dici Psyco è sovrannaturale perché uno da un albergo non sente quelli che parlano questa è la satira fra poco arriviamo sul senso dell'umorismo fra poco arriviamo alla satira l'abbiamo evocata prima con Tim Burton che fa esplodere la testa degli alieni con un'orribile musica anni 30 della nonna della nonnetta in Mars Attacks fra poco arriviamo perché ecco bravo perché sulla satira voglio veramente fare un attacco frontale lui già lo sa a un minimo comune denominatore stupendo secondo me che c'è in L'arrivo di Wang e in Paura 3D va bene ok l'horror deve far paura Paura 3D è anche questo un film molto semplice e molto sofisticato contemporaneamente ed è un gemello dell'arrivo di Wang questi due signori secondo me stavano in uno stato mentale molto fecondo in quest'ultimo anno e mezzo e hanno fatto due film assolutamente gemelli sono uno fratello dell'altro secondo me c'è una voglia di c'è una voglia di sperimentazione con un effetto l'effetto è il formato in questo caso c'è una macchina con il 3D in camera quindi c'è una idea di 3D non particolarmente complesso attraverso il rig stereoscopico le due macchine incastrate i 90 gradi di rapporto tra le macchine ma c'è una macchina con un 3D in camera allora Marco e Antonio dicono questo 3D è il nostro 3D perché noi che siamo abbastanza liberi noi che siamo abbastanza sciolti sentiamo questa macchina con il 3D in camera che è una macchina che anche noi alla Nuct abbiamo un po' visto quindi la conosciamo questa macchina abbiamo fatto dei test con questa macchina questa macchina è la nostra macchina per il nostro 3D quindi noi facciamo un film e anche lì c'è una anche lì come in Wang la grande sfida tecnologica che diventa però espressiva paro paro secondo me in paura 3D c'è il 3D ho rapporto tra Italia e 3D adesso lo dico io così lui ovviamente mi prendo le mie responsabilità beh insomma è il 3D più bello che abbiamo visto in Italia lui adesso magari fa il sarcastico e dice ma dice beh però abbiamo fatto poca roba noi italiani quando è nato il rapporto tra l'Italia e il 3D è nato con un anno di ritardo rispetto all'esplosione nel mondo del 3D che è datata novembre dicembre 2009 diciamo gennaio ufficialmente 2010 con una cosa che si chiama Avatar ebbene noi siamo arrivati nell'autunno del 2011 con Ezio Greggio poi con un film poi con un thriller girato veramente e che poi l'esplosione americana del 3D la legherei più a San Valentino di Sangue che è ancora precedente San Valentino di Sangue di Patrick Luciter è un film che vedemmo che incassò tantissimo grazie al 3D grazie al 3D perché c'aveva proprio era un film un po' era un film che mi sono goduto però io sono fan di Luciter però certo sinceramente non è Avatar la zappona la zappona che usciva però il film era proprio divertente era divertente grazie al 3D era divertente grazie al 3D e effettivamente incassi alla mano noi dicevamo però questo film se non fosse stato in 3D è allora noi italiani ci arriviamo al 3D come ci arriviamo come non ci arriviamo allora prima è Ezio Greggio poi arriva Francesco Gasparoni con un film molto fuori dagli schemi se Marco e Antonio sono un po' degli outsider questo Gasparoni è un super outsider del cinema italiano perché non fa parte proprio della comunità fa parking lot dove addirittura lui brevetta la macchina è un signore molto intraprendente brevetta questo 3D lo andiamo a vedere non mi è piaciuto parking lot però comunque complimenti a Francesco Gasparoni fai parte della storia del cinema italiano perché nel 2011 anche noi facciamo 3D poi arriva la notizia di Bertolucci che farà maniti in 3D e noi tutti eccitatissimi perché il grande maestro e poi purtroppo non l'ha fatto in 3D e poi è arrivata la grande delusione lo ripeto così mi meneranno soprattutto il mio caro amico Marco Martani arriva la grande delusione di Fausto Brizzi e Marco il mio caro amico Marco Martani con il loro film Come è bello far l'amore che doveva essere una commedia in 3D e io ero molto eccitato da Brizzi e Martani che affrontavano il 3D in commedia stimando molto il loro modo di fare cinema delusione e poi arriva questo signore qua arrivano questi signori qua che fanno un 3D bello invece è argento anche però cronologicamente l'abbiamo fatto prima noi forse è girato però devo fare il critico storico che tu non sei per fortuna infatti sei un artista si deve considerare Marco con l'uscita in sala e l'uscita in sala di mister Argento essendo posticipata all'autunno voi siete arrivati prima quindi cronologicamente arrivate voi e insomma io l'ho trovato il più bel 3D italiano che intanto andatelo a fare insomma quindi complimenti a Marco Antonio perché è molto bello c'entri dentro non è per niente facilone non è grossolano non c'è la ricerca dell'uscita continuamente dell'oggetto della mano dell'effetto verso lo spettatore per fargli paura ma c'è anzi molto un'idea di profondità di campo che ho apprezzato d'altronde il 3D a me interessa per questo perché gli spazi a me sembra che diventino più grandi ma certo allora io ho sempre pensato questo l'ha insegnato Cameron l'ha proprio detto sai che cosa mi è piaciuto tantissimo adesso dico una cosa subito dentro mi fa impazzire una cosa che voi fate tre volte in paura 3D cioè nella casa del cattivone voi fate vedere sullo sfondo un personaggio che corre attraversando velocemente l'abbi secondo me vi siete divertiti molto è un po' perverso da regista e critico sta cosa però a me mi è piaciuta tantissimo la fate tre volte e tu con la profondità di campo perché tu vedi un piano che poi non è nemmeno è un piano come lo possiamo definire un piano medio perché tu vedi qualcosa di questa stanza è una casa abbastanza grande tu vedi una porta e poi c'è questa divisione molto bella tra un ambiente e la porta è una casa veramente molto bella architettonicamente ebbene loro fanno dei passaggi molto veloci in chiave thriller che utilizzano perché il personaggio deve passare velocemente non deve essere visto che con il 3D sono stupendi secondo me è bellissimo quel passaggio che fa ci avete pensato a questa cosa sono giochi di profondità lo fate tre volte io ho le tre una me ne sta sfuggendo però va bene ci sarà sono belle a me è la cosa che mi è piaciuto di più di paura 3D sono cose un po' da perverso però là l'ho sentito molto il 3D c'è l'idea che lo spazio diventa veramente in una cantina puoi fare tutto se il 3D io non voglio fare il vate perché poi ci si divide adesso in quelli contro il 3D a favore del 3D il 3D è il futuro del cinema il 3D non è il futuro e c'è boh non lo so mi sono già un po' rotto le palle anche io soprattutto questi discorsi mi sono rotto le palle fondamentalmente nel senso che io credo che semplicemente che se il 3D è un futuro e non lo escludo è nella profondità solo così può essere un futuro nell'uscita no perché il cinema spesso a volte ci sono delle innovazioni che vengono sottovalute non capite secondo me il cinema è il cinema e va benissimo e va benissimo così com'è e tutte quelle innovazioni che tendono un po' a cambiare la fruizione non sono delle vere innovazioni io mi ricordo c'è stato un momento con il primo avvento digitale che si diceva il cinema diventerà interattivo e non capisco ma perché diventa interattivo il cinema è come se un libro diventa interattivo perché mi vuoi obbligare a me lo spettatore è passivo deve essere passivo cambia tutto il modo di fruire l'opera d'arte è uguale sono casini il cinema non è il Luna Park il cinema è il cinema e quindi è chiaro che se il 3D è solamente il bastone che esce come per esempio su San Valentino di Sangue riuscite benissimo queste cose una volta io mi sono scansato e mi sono divertito a scansarmi però questo è San Valentino di Sangue è un film due l'anno era anche un periodo storico ne puoi fare poi il cinema è veloce quando però mi dicono perché non so perché si cita spesso questo autore qua perché Woody Allen dovrebbe fare un film in 3D beh se il 3D è profondità perché no perché Woody Allen non può fare un film in 3D se in una tipica ci possono essere delle gag molto carine si cesta in un ambiente intellettuale di Manhattan alla Woody Allen anche se ormai a Manhattan non ci gira più però no ci sta un soggiorno è dietro una cucina dove perché non può fare il 3D di Woody Allen cioè la gag può esserci attraverso varie profondità di campo puoi fare i gag quindi nella profondità io non sono vate ma di questo sono vate se il 3D è un futuro è nella profondità no allora può diventare tipo il colore il sonoro c'è un nuovo passaggio del cinema quello che dice Cameron diventa che i film scansarsi no che i film non sono questo il cinema non è questo ok quindi questo e secondo me quello che volevo dire un po' pensando e raccogliendo quello che tu hai detto secondo me per esempio a me è dispiaciuto molto che Bertolucci abbia abbandonato il 3D nei suoi sopralluoghi e io mi sono fatto una mia idea romantica può darsi che io non conosco la storia però la mia impressione è che il poro il poro Bertolucci faceva io so che durante i sopralluoghi a un certo punto faceva delle prove con il 3D e gli faceva talmente tante pippe su questo 3D e lui ha fatto vabbè ma se io non posso fare il mio film via il 3D lo faccio in 2D almeno faccio il mio film io ho questa sensazione perché lo sento che ti dicono un sacco di cose ti riempiono la testa di cose dove ti dicono se il 3D devi cambiare come scrivi il 3D ci vuole lo stereo stereo ma che sono loro stereofonico sul set che ti controlla il 3D certe inculature non le puoi fare eccetto così uno fa il cinema se certe cose non le posso fare non faccio il 3D ma chi è? mi interessa molto ci interessa molto concretamente sono delle figure sono come dei mad doctor con i camici bianchi gli stereografi sono gli esperti di stereoscopia sono gli stereografi che fanno questi discorsi chi sono? sono questi signori che arrivano sul set io credo che sono che fanno arrabbiare il direttore della fotografia guarda io mi permetto di dire quello che penso anche un po' si arrabbieranno questi signori io credo che spesso sono mi permetto di un pensiero mio sono quelli che magari vogliono pubblicizzare questa nuova tecnologia e quindi spingere i nuovi registi e produttori a fare i fini 3D ma che non hanno ben capito cosa è un regista e quindi gli dicono delle cose che un regista non si vuole sentire dire perché se tu è un regista gli dici è la novità adesso bisogna anche scrivere pensate al 3D tu quando ti scrivi una storia non è che stai a pensare al 3D al 2D al dolly al carrello stai raccontando un'emozione non so come dire e non ti vuoi sentire non so se si capisce quello che voglio dire limitato dalla metodologia di ripresa un tentativo di pubblicizzazione mal mirato è come se si creasse una conflittualità che non dovrebbe esserci tra noi siamo al 3D e te se il cina e te faccio e te faccio un culo così invece come l'abbiamo vissuto noi 3D è perché io ti posso dire una cosa io non ho visto né parking lot né il fin di credito box office 3D e né come è bello far l'amore te si è perso niente quindi non conosco gli altri esempi di 3D italiano però io ci credo che il nostro 3D italiano è il miglior 3D italiano perché io quando me lo guardo sullo schermo al di là di tutto a me piace che è bello e lo vedo che in molti fili americani non è così bello è vero e secondo me noi abbiamo avuto un approccio a me dispiace perché magari la figura professionale dello stereografo è una figura professionale anche giusta interessante e magari può partecipare no eh ho capito ma questo è proprio il punto cardine della faccenda magari diventerà uno che ti dà una mano sul set nel tempo come il direttore della fotografia questa cosa è Bertucci di raccontare è fantastica è la mia immaginazione non lo so no l'ho detto l'ho detto io forse è una visione poetica io sono sicuro che è andata così chi diceva no questa è una boffa voglio far sicuramente e vabbè sti cazzi sto 3D però quello che voglio dire io fondamentalmente è che noi il nostro approccio a 3D è stato il più semplice del mondo cioè state le camera in 3D sul set avevamo un monitor in 3D stavo seduto e guardavo se mi piaceva se poteva fare se non mi piaceva non se poteva fare e mi sono trovato qualche difficoltà perché è vero che è una tecnologia che ti pone qualche difficoltà e ci sono alcune inquadrature che non puoi fare ma è una cosa è uno che viene in teoria e ti dice tu non puoi fare ti senti perduto come non puoi fare i primi piani come non posso fare i primi piani perché ci è stato detto anche questo e noi proprio i primissimi piani no come invece noi ci siamo messi là con la telecamera con l'attore e abbiamo fatto e a volte ammaggia questa non viene io lo sposto un po' di là ti senti un po' fai lo stesso processo che fai lo stereografo però lo fai in libertà tranquillamente e allora diventa come il colore no perché a me mi raccontava Luciano Martino mi raccontava Luciano Martino che quando si facevano i film a colori a un certo punto dice che dice però la gente guarda non fa un film con una maghetta rossa perché le maghette rosse spalano è chiaro che a me via il colore direi se io ero in un mondo in bianco e nero non si possono fare i film con quelli con le mettere rosse io non lo farei perché non posso avere questa limitazione mentre faccio un film poi non è vero però magari è vero che nel tecnicolo lo spinto la maglietta rossa sparava troppo allora una cosa è dirmi non puoi fare i film con le magliette rosse e a me il colore mi va sul cazzo scusami là una cosa è che io faccio l'inquadratura vedo sta maglietta rossa cazzo spara un po' se non ti cambi di colore risultato lo stesso ma il modo in cui ci arrivi è un altro non so se mi spiego certo certo perfettamente perfettamente molto interessante vabbè io starei con Marco a parlare altre tre ore però gran finale e adesso arrivo mi gioco la carta della provocazione già l'abbiamo fatto un po' al telefono però adesso provo a mettertela meglio insomma io un po' di cose vostre le ho viste in questi anni torniamo all'inizio 17 anni di carriera tante cose che hanno fatto i manetti siamo cresciuti insieme praticamente parallelamente e facciamo parte della stessa generazione ebbene Marco ma te lo dico anche se ci fosse ovviamente anche Antonio io in questo ultimo anno vi vedo cambiati da un punto di vista i vostri eroi avete sempre fatto un cinema di emozione di cuore non di citazionismo così così perché non dovete di citazione se incontrate i manetti per strada non gli dovete di citazione si arrabbiano no però scusa mi permette la parentesi non parti su questo perché io sono d'accordo con te ma solo una parentesi piccola ma se uno ma se uno mette in un film una lezione su Mario Bava perché sta lezione deve essere una citazione perché ma tutti tu apri internet qualsiasi recensione sul nostro film dice che quella scena è una citazione di Mario Bava anzi perché allora adesso io ti frego quella è una scena che fa parte proprio di questo atteggiamento satirico che hanno che hanno Marco e Antonio che secondo me hanno accentuato in quest'ultimo periodo adesso vediamo se la mia provocazione perché quella scena che è divertentissima è veramente una presa in giro è una presa in giro cioè serve a prendere un po' in giro il personaggio che fa parte di quella scena perché è un uomo che cerca di entrare in un contesto che fondamentalmente non gli appartiene per amore come abbiamo fatto tanti di noi perché è un essere umano come noi a me è piaciuta tanto questo è il senso della scena peraltro c'è Tentori che è un grandissimo critico cinematografico che si prende molto in giro è molto divertente quella scena perché c'è Tentori che è un critico cinematografico enorme che sta lì e fa il rompicoglioni però sta cosa tu la capisci tu la capisci diciamola perché se no e parla di Mario Bava cioè noi vediamo un'aula universitaria dove c'è Tentori che è un critico ripeto sopraffina di una persona di grandissimo senso dell'umorismo che parla di Bava come se parlasse di Dante Alighieri con tutta la stima e l'affetto per Dante Alighieri però parla di Bava come se fosse una materia un po' incancrenita all'interno di un percorso di studi ormai dato per scontato che è un po' il cinema ormai nelle università io ho fatto il Dams a Bologna e quindi vengo da là però mi permetto di dire citando il maestro che gli ha citato così la scelta dell'autore è dovuta al fattore io ti assicuro Francesco ma ti assicuro che io faccio questa scena tu l'hai capita tu l'hai capita perché hai un altro approccio rispetto non è che magari tu sei il più grande fan del nostro cinema ti piace a volte ti piace a volte ci critichi però hai capito chi siamo lo vedi e capisci questa cosa se la fanno i manetti è una citazione se la fa Bertolucci tutti capiscono questa cosa è però è vero se la fa Bertolucci non pensa che Bertucci ha fatto una citazione capiscono che c'è questo racconto di questa persona che è esattamente quello che dici tu che per amore vuole far vedere di essere quello che non è se la fanno i manetti è una citazione ma perché? eh vabbè questa è una cosa questa è una cosa che hai ragione però tutti i vostri eroi tutti i vostri protagonisti che spesso sono stati eroi ebbè Marco secondo me erano lineari cioè arrivavano a una fine in cui si sentiva che voi gli volevate bene e si sentiva che voi sposavate la loro visione del mondo senti in quest'ultimo anno siete diventati più cattivi secondo me per cattivi cosa intendo siete mutati siete cambiati e per me siete molto più imprevedibili perché da Zora a Piano 17 alla bellissima io sono un fan dell'Ispettore Coliandro ebbè insomma come narratori classici c'è un personaggio gli vuoi bene penso all'adorabile protagonista di Piano 17 che è un nerdacchione che è un appassionato che è uno come noi che è un appassionato di fantascienza per esempio vedete come poi alla fine poi ci sono arrivati alla fantascienza in senso letterale lì era molto evocata che è un uomo adorabile è un loser è un perdente è innamorato di una donna che sta in un altro contesto poi farà amicizia paradossalmente con un duro con un criminale che però ha un codice dell'onore simile a lui si somigliano insieme però insomma lì ed era Piano 17 che era un noir bellissimo secondo me molto bello però senti Marco con Paura 3D e con l'arrivo di Wang voi fate un po' di satira che c'è sempre stato il vostro senso dell'umorismo sì però qua voi ed è per questo che sono due film gemelli arrivate alla fine e fate delle cose sulle aspettative dello spettatore che in passato non avete mai fatto secondo me com'ametti sì ti provo a rispondere no non è che sono in disaccordo totale tu mi vedi completamente in disaccordo quello che dici no no ne avevamo già parlato no perché poi no perché magari sembrava anche quando come ti rispondevo no no non sono compagnie in disaccordo con quello che dici ci tengo a dire un paio di cose prima la figura dell'eroe mi emoziona ancora cioè non è uscita dal mio stomaco e quindi la scriveremo ancora non so come dire la figura del protagonista o la protagonista che prende in mano le sorti di una storia e cazzo te le risolve no rimane nel mio cuore continuo ad amarlo e continuerò a ammetterlo nei film io credo allora io ti stavo per dire inizialmente senza spoilerare troppo questi film è un po' difficile fare questo discorso senza spoilerare troppo un po' li dobbiamo spoilerare per forza meno possibile si è capito che nel finale c'è sempre qualcosa allora secondo me mentre parlavi pensavo ma perché lui dice satira in Wang è satira in paura anche a spazio infatti forse hai ragione pensavo non è satira perché questo rivolgimento non ti fa scappare una risata no poi forse ho capito quello che vuoi dire anche perché vedo che ci capiamo mi capisci bene quindi ma se vuoi dire questo c'è un po' di satira nel senso che i nostri due eroi se gli eroi se l'eroina di Wang è Francesca no è la traduttrice e l'eroe di paura è Simone no il ragazzo più introverso sono tutte e due noi gli diciamo ah raga sveglia sveglia e allora lì c'è la satira perché poi la realtà te bastona alcune volte no e c'è sì in effetti c'è questa cosa non so se è una maturazione o semplicemente il fatto che abbiamo fatto questi due film nello stesso periodo e quindi avevamo quella cosa là da dire in quel momento là no ed è uscito fuori in tutte le cose guarda i critici si possono fare i critici non lo so però è vero hai ragione c'è un intento satirico pure là non ci avevo pensato nel senso che diciamo al ragazzo tutto profondo molto cavaliere io salvo sta ragazza cazzo salvi la chiama la chiama la chiama e non lo capisce mai e lei ormai si è capito a un certo punto io lo trovavo molto divertente ma non in modo involontario in modo molto volontario nel senso che in qualche modo e poi ho trovato molto satirica e meravigliosa la chiusa la chiusa eh lo so la chiusa stiamo chiudendo è perché c'è e c'è tutto il loro cinema lì c'è c'è la complessità del mondo adesso non spoiler c'è gente che sale e gente che scende c'è gente che sale per divertirsi e c'è gente che scende va bene non ho detto niente non si capisce niente però c'è la complessità del mondo perché loro fanno utilizzano un escamodaggio un artico fantastico mettono in piedi una cosa che poi ovviamente alla fine accadrà e che sta alla grande che è un controcanto ironico estremamente satirico nei confronti del tono della storia dei protagonisti perché è qualcosa che sta arrivando nel luogo dove si trovano i protagonisti e quindi alla fine del film c'è gente che c'è una persona che scende in un certo modo e c'è un sacco di gente che sale in un altro modo e non si incontrano questi mondi e mi piace tantissimo il fatto che loro facciano vedere che non si incontrino e insomma amico mio non eravate così ma non ti dico che eravate peggio dico che in questi 17 anni ti dico solo che io so di amare ancora gli eroi quindi solo questo è dentro di me che io trovo l'obiezione in quello che hai visto c'è quello che dici allora mi dico forse non è è il periodo esatto forse non è un'evoluzione definitiva è il momento che ci è venuto da raccontare questo forse un po' i critici potrebbero arrivare nel politico addirittura ma guarda forse ma ti posso dire che magari invece tu vai nel politico vado a uno psicoanalitico e ti dico che magari c'entra col fatto che sia io che Antonio in questo momento abbiamo dei figli adolescenti però lo sto pensando ora il critico è contento in questo momento perché ha stabilito un rapporto e la sua provocazione è andata a buon fine non nel senso che si deve sentir dire che c'ha ragione perché non è così stupido il gioco il gioco è parlare chiacchierare e appunto stimolarsi a vicenda come loro stimolano noi perché partiamo sempre da che uno sia un critico o sia uno spettatore noi siamo dei fan di chi fa cinema e se non ci fossero loro non ci saremmo noi e questo io lo ripeto sempre a tutti i registi che anche poi si arrabbiano per le cose orribili che a volte posso scrivere quando non mi piacciono i loro film però io sono sempre un fan rimarrò sempre un fan perché se non ci fossero queste persone qua io non saprei cosa fare di tante ore della mia giornata e io mi metto a vedere le cose che fanno loro insomma abbiamo visto e ho visto in questi 17 anni un sacco di roba che hanno fatto Marco e Antonio e sono convinto che ne vedrò ancora tanta e seguiremo la cosa di Wang in America perché è veramente troppo divertente e ringraziamo Marco per averci dato delle saporite delle saporite rivelazioni sull'argomento e siamo contenti di aver chiacchierato con Marco Manetti di 17 anni un pochino ma soprattutto di questo ultimo anno dei 17 anni che è stato un anno secondo me indimenticabile per loro dove fanno un film di fantascienza un film bellissimo che è l'arrivo di Wang secondo me il loro più bel film al cinema e poi fanno un film horror, thriller chiamatelo come volete ma con una grande energia e una grande intelligenza anche lì con Medusa con il 3D e sono usciti pochissimi giorni fa nelle sale italiane e quindi io penso io sono molto felice e sono anche un po' emozionato di vedere due cineasti che ammiro che stimo e a cui voglio anche molto bene che sono arrivati a questo momento e che poi sarà solo un momento che sarà precedente ad altri momenti quando il tempo passerà e torneremo magari qui ancora a chiacchierare di cinema che è la cosa che ci piace tanto allora insomma grazie grazie a te come lo vedi il futuro dei manetti? chi lo sa? nero nero mo ci sono gli americani mo scriviamo con gli americani scrivono con gli americani chissà che succede salute a tutti salute al meraviglioso pubblico di lettori e spettatori ormai perché bettaste fa sempre più video di bettaste.it ciao a tutti